Inizio io, visto che sono di Cusano, sono cresciuto a Cusano, quindi conosco bene il territorio e conosco bene tanti di voi. Allora, noi siamo arrivati in Parlamento, adesso stiamo girando un po' tutte le piazze e tutti i comuni, come abbiamo sempre fatto, per cercare di informare. Credo che la differenza grossa da quello che facciamo rispetto all'abitudine che abbiamo da parte dei politici sia che veniamo a raccontarvi quello che abbiamo fatto. Non veniamo a promettervi niente, veniamo a chiedervi cosa volete e a dirvi quello che abbiamo già fatto. Quindi invece io mi ero abituato a sentire dire bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quello, dovremmo cambiare, ah c'è da fare una riforma, però dalle stesse persone che erano all'interno. Quindi se io vi dico qualcosa che dovremmo fare e non l'abbiamo già tentato di fare, vuol dire che sto sbagliando qualcosa probabilmente. Allora, noi arriviamo dalla sospensione, io arrivo dalla sospensione di 10 giorni che ci hanno dato perché abbiamo protestato sul decreto IMU Banca Italia. La cosa folle è stata che noi siamo stati sospesi per colpa di questo decreto perché abbiamo protestato, siamo andati, siamo scesi sui banchi del governo, abbiamo cercato di fermare la votazione. Perché? Perché non potevamo accettare che fosse imposta la tagliola a un decreto e quindi fosse imposta una tagliola che non esiste nel regolamento e che quindi va contro la Costituzione, contro il regolamento parlamentare. È stato fatto un atto che non sta nelle possibilità del governo né del Presidente della Camera. Quindi questo deve essere ben chiaro a tutti i cittadini. Quindi questo ci dice che non siamo più in una democrazia, ma siamo in uno Stato in cui regna la maggioranza e fa quello che vuole. Noi ci siamo opposti, c'è stato detto che quello che dicevamo non era vero, noi stavamo dicendo semplicemente che con la scusa di togliere l'IMU e di dire che noi non volevamo togliere l'IMU, si faceva un regalo di 7 miliardi e mezzo alle banche. Per trovare 7 miliardi e mezzo invece per lo Stato sociale è una cosa impossibile, invece per le banche si sono trovati 7 miliardi e mezzo da regalare alle banche private. Quando abbiamo fatto questa denuncia, tutti i giornali contro, il governo contro, noi siamo i populisti, siamo quelli che raccontano balle perché non siamo in grado di stare in Parlamento, siamo i ragazzini che sono appena arrivati. Bene, adesso mi sembra che l'Europa ci sta aprendo una procedura per aiuti di Stato alle banche e adesso è partita una denuncia per danno erariale perché lo Stato ha regalato dei soldi e quindi ha regalato dei soldi vostri alle banche private, però per voi, per le pensioni, per il lavoro, per tutto il resto, non li trova. Questa è la situazione in Parlamento in questo momento. Noi siamo stati sospesi per questo motivo e per questo motivo noi eravamo in sottonumero durante le ultime votazioni e per esempio non sono passati degli aiuti alla Sardegna perché mancavano, 90 milioni alla Sardegna perché mancavano 20-22 voti e noi siamo stati sospesi in 23-24 persone quindi sostanzialmente hanno giocato anche su questo. Noi per 10 giorni siamo fuori dalle aule e non possiamo né votare né partecipare alla discussione. Per alcuni dei nostri, cosa mai successa, siamo arrivati da Alessandro Di Battista e siamo arrivati 25 giorni addirittura. Una cosa mai vista neanche quando facevano le risse alla Camera. Bene, ma passiamo al nuovo governo perché quello è stato fatto dal vecchio governo, facciamo finta che era il vecchio governo. Bene, sono gli stessi, cambiano le facce dei ministeri, mettono lì Renzi che ha una bella faccia pulita e cerca di rinnovare le cose. Cosa fa Renzi? Arriva e inizia a fare il giocogliere e ci distrae con le tre palline. Allora, mentre noi siamo distratti fa promesse che abbiamo calcolato, siamo intorno ai 90 miliardi come manovre che ha proposto, tra tutte le cose. Allora, neanche Berlusconi si era immaginato di chiedere qualcosa di più di 3-4 miliardi per l'Imu. Renzi 90 miliardi, una cosa impossibile. Poi va in Europa e dichiara che non vuole neanche sporare il patto di stabilità, non vuole sporare il 3%, il fiscal contract non si tocca. Quindi su tutte queste cose ci stanno raccontando delle pandonie, ci stanno raccontando tante belle cose che ci distraggono, cercano di tirare avanti la baracca per far passare dei decreti che rovineranno l'Italia, stanno cambiando la Costituzione, stanno cambiando il metodo elettorale, stanno cambiando i rimborsi elettorali, stanno cambiando tutto, stanno facendo sparire il Senato. Se delle persone che hanno fatto la guerra e che hanno cercato di mettere su uno Stato democratico l'avevano concepito in un certo modo, io non vedo come un Parlamento antidemocratico eletto illegalmente, possa cambiare una situazione che è lì da anni e che non è stata ragionata con tutto il Parlamento. Quindi loro stanno togliendo, abolendo il Senato e rendendolo un organo non elettivo, e svuotandolo di tutti i contenuti, essendo un Parlamento eletto su, gli stimi chiusi, illegalmente, è un Parlamento che sostanzialmente col premio di maggioranza, un governo che è stato cambiato senza il voto dei cittadini, quindi tutto questo sta accadendo sotto i nostri occhi, con la compliacenza della stampa e nessuno si sta muovendo più di tanto se non noi che andiamo in giro a protestare qualche cittadino che si lamenta, perché? Perché viene tutto sottaciuto, tutto viene messo lì come se fosse normale, ci stiamo abituando a tutto, stiamo facendo passare qualunque cosa, intanto però vengono proposte delle cose come il cambio dei nuovi contratti di lavoro, anche questa cosa, se qualche anno fa si proponeva un job act di questo genere, sarebbero venuti i sindacati per strada e avrebbero distrutto tutto, gli operai sarebbero stati a fare proteste, scioperi e altrettutto, in questo momento no, sembra che vada tutto bene, è una cosa dovuta, bisogna farlo, quando ci ritroveremo come la Grecia o peggio, ce ne accorgeremo troppo tardi probabilmente. Ma Massimo, forse è colpa mia, non so voi, ma io non capisco cosa stia succedendo, non si riesce a capire, non c'è un'informazione precisa, secondo me siamo in una bolla adesso. Ti faccio alcuni esempi perché me li sono segnati, ho detto non mi voglio dimenticare niente perché sono a Cusano, il mio paese, quindi volevo essere sicuro di dirvi tutto quello che ci passavamo, e beh in Cusano ci sono cresciuto, adesso sono da Cormano, mi sono spostato lontano. Sei straniero. Sei straniero. Allora, gli 80 euro che ci ha promesso Renzi, gli 80 euro per adesso sono promesse perché non c'è nessuna cosa nero su bianco che stiamo votando per liberare gli 80 euro. Le auto blu, ha detto che metterà 100 auto blu su eBay, ok? Però c'è un contratto per acquistarne 250, forse di più, per acquistarne nuove. Quindi questa è la presa in giro, ma nessuno lo smentisce, un giornalista che lo smentisca non c'è, è venuto andare Di Maio a dichiararlo, poi è passata comunque sotto tono la notizia e non è stato detto niente, se succedeva ad altri sarebbe stato scoppiato un putiferio. Sulla legge elettorale, hanno fatto passare una legge elettorale nuova, dopo che hanno promesso in campagna elettorale che avremmo abolito i listini chiusi, hanno comunque votato per non avere preferenze, quindi voi non potrete votare alle elezioni nazionali il singolo candidato, ma avrete dei listini comunque chiusi. Ci saranno delle soglie di sbarramento che sono state, è stato dichiarato proprio da componenti della maggioranza, che sono state concepite proprio contro il Movimento 5 Stelle per cercare di non farci arrivare al ballottaggio, non farci arrivare alla soglia per poter governare. La mantengono in mano loro con le loro belle coalizioni e quindi tutti quegli accordi sotto banco che fanno normalmente. Sulle province ci hanno detto che hanno abolito le province, anche lì palle. Per esempio adesso hanno incardinato un nostro provvedimento che abolisce le province. No, se l'hanno incardinato vuol dire che non hanno abolito le province con il loro provvedimento. Hanno semplicemente creato queste città metropolitane in cui si potrà mantenere comunque anche le province su richieste di alcuni comuni. Quindi avremo città metropolitana più provincia che si somano, abbiamo creato nuove poltrone, abbiamo creato nuovi costi, anzi costi maggiori rispetto a prima e ce la vendono come una grande vittoria. Non so se l'avate visto di Mario in TV, aveva lasciato senza parole la deputata del PD perché non sapeva neanche lei che cosa aveva votato. Sui rimborsi elettorali, rimangono i rimborsi elettorali, vengono aboliti tra qualche anno ma comunque rimane un 2 per mille se non sbaglio. Poi anche sulla trasparenza dei rimborsi elettorali, il privato può dare il contributo al partito perché lo vuole sostenere, ok ci sta, siamo d'accordo, però deve essere trasparente. Io devo saperlo prima delle elezioni, chi è che ha sorvenzionato quel candidato e quel partito. Invece no, tu puoi saperlo solamente dopo le elezioni, chi è la lista di quelli che hanno sorvenzionato il singolo partito e solamente se chi ha sorvenzionato è d'accordo. Questa è follia, questa è follia. L'Italia in questo momento è così. Parliamo degli altri componenti di governo, abbiamo la Guivia e lo sviluppo economico, questa è una che ha delocalizzato le sue aziende all'estero e deve fare lo sviluppo economico sostanzialmente. Cosa ci possiamo aspettare? Galletti, ministro dell'ambiente, che è proprio sulla mia commissione. Questo è uno dell'Utc che fino a qualche anno fa era per il nucleare e per l'acqua privatizzata. Adesso appena l'hanno eletto ministro, automaticamente ha fatto delle smentite per tamponare perché sennò veniva giù il mondo, perché gli ambientalisti non vanno per il sottile, però, porca misera, non puoi mettere delle persone del genere solo perché devi fare un gioco di poltrone al governo. Anche Renzi semplicemente ha utilizzato lo stesso manuale Cenicelli, ha dovuto fare degli accordi, ha spartito le poltrone e si è rivenduto come poteva, ma non ha fatto niente di nuovo, niente di diverso dal solito. Adesso passiamo alle proposte che abbiamo fatto noi. sulle piccole e medie imprese noi abbiamo chiesto che se un'impresa, e questo è passato, se un'impresa con un emendamento ha un decreto loro, siamo riusciti a far passare, che se un'impresa che delocalizza ha ricevuto negli anni precedenti degli aiuti di Stato deve restituirli. Questi aiuti di solito vanno alle grandi imprese, magari distribuiamole alle piccole e medie imprese che sono quelle che rimangono sul territorio e che non possono permettersi di delocalizzare. Siamo noi! Abbiamo chiesto la compensazione dei crediti coi debiti con la pubblica amministrazione, quindi anche in questo caso non mi venga in Italia a chiedere dei soldi quando lo Stato me ne deve già. Quindi fai una compensazione, anche questo è passato. Abbiamo fatto una proposta di legge sulle chiusure domenicali, qui su Viale Matteotti ha sofferto molto del fatto di aprire mille centri commerciali intorno, perché tu avevi il negozio qua sotto casa che ti serviva, conoscevi il negoziante, pian piano sono andati a morire, si sono aperti sempre più bar e meno negozi, non c'è più un negozio di elettronica, non ci sono più tanti negozi che una volta erano presenti qua in Viale Matteotti. Ecco, noi vorremmo che ci siano più chiusure domenicali per i grandi centri commerciali, così si dà respiro ai piccoli commercianti e si dà respiro alle famiglie, perché anche con questi centri commerciali aperti 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, tu costringi i lavoratori anche ad avere dei problemi in famiglia, perché chi fa il turno di domenica e si becca tutte le domeniche non vede più la famiglia. Quindi dobbiamo dare, proprio come qualità della vita, lo sappiamo che si fa fatica a farglielo capire, perché si vede solo il profitto normalmente, invece vorremmo vedere anche proprio la qualità della vita, migliorare la qualità della vita dei lavoratori e non solo guardare al profitto dell'azienda. In più non aumenti i clienti, non dividi per giorni, perché se un cliente deve andare a prendere il prodotto X il venerdì pomeriggio, dice tanto aperto la domenica sera... Ma, tra parentesi, la nostra proposta che è arrivata in aula era condivisa con l'associazione di categoria dei piccoli commercianti. Quando siamo arrivati in aula gli altri hanno fatto altre proposte e si sono trovati in difficoltà, perché noi siamo arrivati in tale quale con la proposta dei piccoli imprenditori ed eravamo d'accordo tranquillamente con loro, ma abbiamo condiviso la maggior parte delle cose. Quando siamo arrivati in aula i partiti si sono accorti e hanno detto cavolo qua se andiamo contro vuol dire che il Movimento Civistra è l'unico che li appoggia e noi no. Allora, hanno bloccato tutto, sono tornati in commissione e si sono messi di nuovo a discutere. Adesso mi sembra che ancora dobbiamo arrivare a discutere. Cioè, questi è i mesi che è lì in sospeso perché non riescono a trovare una quadra perché non vogliono farlo ma non vogliono fare brutta figura con l'associazione di categoria e quindi perdere il voto. Loro ragionano solo su questo, non se è una cosa buona o no, ma non perdere il voto. Abbiamo fatto l'altro giorno un'interrogazione sul Sistri, non so se quanti di voi lo conoscono. Io lavoravo qua da Sperone a Cusano sempre e abbiamo avuto il problema dei rifiuti, quindi la tracciabilità dei rifiuti. Hanno messo in via di questo sistema, dove i forniti di chiavetta e black box da mettere sugli automezzi per trasportare i rifiuti. Cos'è costato le aziende? 70 milioni di euro e non è ancora entrato in funzione. Abbiamo fatto sapere noi al governo l'altro giorno che la compagnia, la società che doveva, la Selex, che doveva fare tutto il sistema, completare il sistema di film meccanica, aveva dato di subapparti che non poteva dare, il ministero non se n'era accorto e a un'interrogazione ci rispondono non lo sapevamo. Non lo sapevamo. Loro, grazie a questa nostra segnalazione, che chissà dove l'abbiamo presa, non è che siamo andati a fare troppo gli investigatori, era proprio palese, grazie a questa nostra segnalazione possono distire il contratto e riprendere nel ministero in mano dalla Selex tutto l'impianto e gestirlo direttamente. Quindi questo sarà un risparmio e soprattutto cosa abbiamo chiesto, che i 70 milioni di euro vengono scalati dall'azienda, perché adesso le aziende non devono continuare ogni anno a pagare l'abbonamento al sistema quando non sta funzionando il sistema. Quindi me lo scali sulle prossime rate che io ti devo pagare, me lo devi dare indietro, perché non ho mai dato il servizio, non ho mai dato nessun servizio e anzi ci rifacciamoci magari sulla società che ci ha rubato e a parti e subapparti sono spariti milioni di euro anche in questo caso. Ma poi Massimo, scusatemi se mi permetto, questo è che ho trovato personalmente perché io lavoro in una piccola società che si occupa di ritirare i rifiuti di tutti gli artigiani, soprattutto quelli non pericolosi, però per dare un servizio completo, non so, già un barattolo di vernici diventa un rifiuto pericoloso, oppure dobbiamo tirare giù delle lastre d'amianto chiaramente pericoloso. Quindi noi per dare un supporto completo, siamo una piccola impresa, dobbiamo anche occuparci di rifiuti pericolosi. Piccola parte però, e abbiamo questo obbligo, allora se funzionasse questo sistema e semplificasse la vita a tutti, anche a noi, non ci sarebbero problemi, il problema è che non funziona, ci obbligano a provare ad usarlo in parallelo al vecchio sistema, però le forze della polizia e il NOE, il nucleo operativo ecologico, non ha avuto sovvenzioni per controllare meglio il territorio, i Sistri, ve lo richiedo, chiamiamo, vedete quello che ha restato Rina, il Ultimo, adesso lavora per il NOE. Allora io ho chiesto a Massimo, è un sogno, se si possa chiedere a Ultimo, a questo colonnello dei Carabinieri, se funziona o no questo servizio satellitare, perché da quello che ho capito io, se ti vogliono controllare a livello satellitare, possono anche senza Sistri, quindi il controllo satellitare esiste, ok? Allora, questo pacco dei Sistri sta facendo diventare pazzi noi, piccoli operatori, che dovremmo assumere altro personale, ma come facciamo, che c'è una crisi pazzesca, come facciamo a prenderci questo carico, il mio titolare non sa cosa fare, e dobbiamo far finta di usare questo sistema per non far perdere il contratto alla Selex. E adesso c'è un signore, si chiama Giovanni Contento, che è segretario nazionale della UIM, che sono i mentalmeccanici, che continua a difendere il sistema Sistri perché, giustamente, vuole tutelare il lavoro di questi ragazzi laureati, ma su questo forse è più informato Massimo. Quindi c'è troppa disinformazione, confusione e quasi una violenza. È proprio uno stupro. Sì Matteo, adesso per non annoiare tutti che magari non tutti sono interessati da questa questione particolare, però sostanzialmente adesso noi che contestavamo di base era il fatto che le aziende pagano un servizio e lo Stato non glielo dà e soprattutto ci specula sopra. Ti chiede delle black box che le vende a 500 euro quando costano 70 euro, delle chiavette a 100 euro quando costano 2 euro, chiavette USB, stiamo parlando. Quindi su tutte queste cose noi stiamo continuando a martellare e i risultati si vedono, stanno venendo fuori perché li mettiamo all'angolo, poi partono delle... Anche se sono grosso ma... Si mangia bene in Italia. Si mangia bene, si mangia bene, poi è la matrice. Allora, altre cose su ambiente, le cose più importanti che abbiamo fatto sull'ambiente. Noi stiamo facendo una battaglia contro le centrali a biogas che sono le centrali che si sta sviluppando tanto in Lombardia. Qui abbiamo già una delle zone più inquinate d'Europa, la Lombardia, per le polveri sottili. Le centrali a biogas li lasciano polveri. Adesso lo scoop dell'anno è spendere per le centrali a biogas dare incentivi a pioggia e quindi queste centrali stanno fiorendo in tutto il territorio italiano. In Lombardia in particolare rubano dei terreni all'agricoltura, inquinano e soprattutto sono un investimento che durerà pochissimo perché il giorno che togliamo questi incentivi e i grossi speculatori avranno comunque riguadagnato, ci molleranno lì le centrali, ci lasceranno i terreni inquinati, avremmo perso terreni per l'agricoltura e avremmo perso dei posti di lavoro perché queste centrali si mantengono solamente sull'incentivo. È stato come quando all'inizio sul fotovoltaico hanno iperincentivato, sono nate aziende ovunque di fotovoltaico, dopodiché, logico, appena togli l'incentivo quelle più sane si mantengono, tutte le altre che riuscivano a stare in piedi perché c'era un mercato falsato sono crollate e cosa hai fatto? Hai semplicemente rovinato un mercato che invece poteva essere più sano. Quindi lo Stato italiano si muove così senza pianificare e senza fare dei progetti a lungo termine ma semplicemente dal doppio oggi, adesso è il momento del biogas, prima del fotovoltaico, domani dell'eolico. Non si fa nessun ragionamento di senso. Sui rifiuti stiamo rivedendo il testo unico ambientale, quindi stiamo rivedendo la strategia sui rifiuti, partendo da un'idea di rifiuti zero ma anche rivedendo la parte degli imballaggi e quindi non produrre rifiuti per arrivare a avere meno problemi nel trattarli perché se non li produco automaticamente non hanno problemi nel trattarli. Rivedere le garanzie sui prodotti, se io do una garanzia su un televisore per dieci anni e la do per legge, automaticamente il televisore non ce ne avrò due ogni anno da cambiare ma ne cambierò uno ogni dieci anni perché il produttore lo farà con certe caratteristiche e le possibilità ci sono già tecniche di farlo. Lo svincolo del fatto di stabilità l'abbiamo chiesto l'altro giorno in una... abbiamo fatto già una proposta di legge però l'abbiamo chiesto in una mozione l'altro giorno per i comuni dell'Emilia e del Veneto ci sarà uno svincolo del fatto di stabilità per le spese riguardo il dissesto idrogeologico. Adesso a noi ci tocca meno però quando esonda il service adesso capita meno spesso però anche noi siamo toccati da queste cose. E poi chiudo e lascio la parola ai miei colleghi sul consumo di suolo. Abbiamo iniziato una battaglia già dall'inizio, quando siamo arrivati in Parlamento. Arrivando da qua io ero preparatissimo sul consumo di suolo la zona lì della CIA ci hanno fatto palazzoni su palazzoni raccontandoci che avremmo avuto il parco del Seveso il parco nessuno l'ha visto naturalmente i costruttori sono gli stessi perché è lo stesso costruttore l'edilteco che lo fa qua a Cusano trova i permessi per spostarsi le aree edificabili all'interno del parco del Grugnotorto poi riesce anche a fare le case in convenzione a Cormano inizia a chiederti perché è sempre lo stesso costruttore che collegamenti ha con le varie amministrazioni forse è solo fortuna. però diciamo che ci sono dei monopoli qua nella zona per cui sempre gli stessi riescono a costruire quello che vogliono allora difendiamo le ultime aree verdi non si costruisce più, si blocca tutto e anche nella proposta di legge a livello nazionale che poi darebbe più forza alle idee a livello comunale è bloccare tutto tenere solo le ristrutturazioni e riqualificazioni delle zone già edificate tutto il resto è vincolato e fare il censimento degli edifici e se un comune, non so se capita qua a Cusano però non credo però in alcuni comuni abbiamo un comune che magari è in affitto in un edificio e c'ha l'edificio faticente dall'altra parte di sua proprietà allora evitiamo di andare a fare affitti passivi i soldi sono dei cittadini utilizziamo poi i soldi per ristrutturare l'edificio e che il comune stia all'interno degli edifici suoi e quindi delle sue proprietà che sono poi un valore per noi cittadini che dobbiamo mantenere mi alzo anch'io così ci vediamo meglio allora io sono Giulia e sono venuta a trovarvi da Rimini oggi io faccio parte della camera della commissione giustizia di un'altra commissione, una commissione antimafia che è una commissione d'inchiesta e della giunta per le elezioni non al senato dove è stato come sapete che ha esaminato il caso stupendo di Silvio Berlusconi fino a togliercelo dal senatore ma alla camera anche lì c'è una giunta per le elezioni che valuta le elezioni di tutti i 630 deputati e molti di voi, io mi rendo conto che io stessa e tutti noi non conosciamo minimamente tutta questa marea di persone che in teoria dovrebbero rappresentarci sono 630 630 persone che appunto nella maggior parte dei casi non sono conosciute dei cittadini e voi non avete idea della marea di conflitti di interesse che hanno la maggior parte dei deputati di questo paese noi siamo lì a spulciarli tutti uno per uno e stiamo dando battaglia in giunta perché abbiamo il nostro presidente Giuseppe D'Ambrosio del Movimento 5 Stelle che quindi è riuscito ad avere la presidenza di questa importantissima giunta e mentre al senato hanno già finito praticamente la proclamazione di tutti i senatori perché è la giunta per le elezioni che li proclama eletti noi invece siamo più lenti perché ci stiamo andando a spulciare uno per uno le posizioni di tutti e non avete idea di quante belle cose stanno venendo fuori da Matteo Colaninno e i suoi mille incarichi a persone come Matarrese o Vitelli deputati che nessuno conosce e che guardate magari te li ritrovi con 30 molti incarichi questi sono presidenti di società amministratori delegati di qualche società poi magari sono nella stessa commissione da dove fanno delle leggi per loro stessi e per le loro stesse società è un cane che si morde la coda e non c'è nessuno che controlla questa marea di conflitti di interesse guardate noi stiamo facendo una battaglia immensa in giunta perché non avendo in questo cavolo di paese una legge seria sui conflitti di interessi noi ci ritroviamo con due articoletti che dovremmo applicare che sono due articoli del 1957 perché queste leggi non sono mai state riformate in tutti questi anni e non riusciamo a trovare il modo stiamo lì a cercare l'interpretazione a livello giuridico si stiamo scervellando per cercare di far valere appunto un semplice principio e cioè che se tu sei amministratore delegato o presidente di una società partecipato dallo Stato che ha pigliato finanziamenti pubblici dallo Stato e incarichi a volte anche milionari dallo Stato tu non puoi fare il deputato e essere in una commissione dove ti mandi i soldi e arrivano magari alla tua società grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti in tutti questi anni ma noi non è che siamo la magistratura non è che possiamo permetterci di andare contro i nostri colleghi deputati ma come possiamo non possiamo state calmi voi del 5 Stelle come vi permettete ma signore ma è possibile che per fare il deputato bisogna avere altri 30 incarichi fuori mille lobby che ti stanno dietro magari pure indagini giudiziarie in corso e nessuno solleva nulla guardate in questo io vi racconto solo l'ultimo dei casi perché questo è stupendo è il caso di Frank Antonio Genovese Frank Antonio Genovese è un deputato del PD di Messina un avvocato penalista che qualche settimana fa anzi proprio una settimana fa ha ricevuto dalla procura di Messina un mandato una richiesta di autorizzazione all'arresto perché purtroppo essendo deputato non è che lo possono andare ad arrestare così ci vuole l'autorizzazione della Camera dei Deputati e gli è arrivato un mandato quindi di arresto a Genovese per peculato associazione a delinquere finalizzata alla truffa corruzione e tantissimi altri reatti contro la pubblica amministrazione perché secondo la procura di Messina questo deputato ha messo in piedi tutta un'immensa associazione a delinquere per controllare gli appalti degli enti di formazione professionali quindi ha creato una sorta di scatole cinesi e di meccanismo tale per cui c'è la sua longa manus che controlla tutti gli enti di formazione e tutti gli appalti e questo soggetto qui noi appunto siamo andati a spulciare l'abbiamo visto ma qui non c'è soltanto l'indagine della procura che verte su questo problema ma qui ci sono anche un casino di incarichi che ha questo deputato qua perché magari era in mezzo addirittura agli appalti per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina progetto che finalmente è stato abbandonato ma guardate che ancora ci sono le pietre per il ponte a Messina e ancora ci sono degli appalti in giro per questa opera stupida proposta dal governo Berlusconi e poi aveva addirittura rapporti con delle società collegate a dei boss di Cosa Nostra quindi tutto un giro di affari per la città di Messina incredibile e in giunta abbiamo siccome non era nella rosa di quelli borderline cioè durante la giunta delle elezioni si dice vabbè ci sono questi deputati che sarebbero da controllare un po' di più perché hanno un po' troppe posizioni Franca Antonio Genovese non c'era in questa vista e noi abbiamo detto scusate ma è arrivato il mandato d'arresto siamo andati a controllare la posizione di Genovese e abbiamo trovato queste cose qua perché non ne discutiamo in giunta? risposta ma è arrivata la sua autocertificazione lui ha detto che è pulito guardate c'è scritto qui e ha detto ma signori se si fa un processo l'imputato gli schiede sei innocente quando vuoi cosa gli risponde? subito santo subito santo e quindi questa è la situazione in giunta adesso grazie al Movimento 5 Stelle discuteremo anche la posizione di Genovese e l'abbiamo sollevata ma soltanto grazie al nostro intervento perché siamo quelli rompicoglioni che si mettono lì a spunciare tutti i deputati uno per uno e a non tralasciare nulla io continuo un po' con la saga del governo Renzi come ha già raccontato Massimo noi per quanto riguarda la giustizia abbiamo di nuovo appaltato la giustizia di questo paese al centro-destra voi dovete saperlo perché non mi fate prendere in giro dai proclami o dai bei propositi noi abbiamo i due sottosegretari alla giustizia uno si chiama Cosimo Ferri ed è di Forza Italia l'altro si chiama Enrico Costa ed è di nuovo centro-destra ed è quello che insieme ad Alfano si girava le città e si faceva bello con il disegno di legge per bloccare le intercettazioni telefoniche quindi per mettere il bavaglio alla magistratura questi due soggetti qui sono i sottosegretari alla giustizia non è che ce ne sono altri del PD sono questi due uno di Forza Italia e uno di nuovo centro-destra il ministro il ministro è Andrea Orlando che prima era all'ambiente io penso che all'ambiente forse era uno di quei pochi all'ambiente che penso abbia fatto perlomeno ci si riusciva a parlare ci si confrontava mi piaceva anche stare all'ambiente ad Orlando mi piaceva anche poi che cosa succede? succede che quando si doveva fare il governo voi ve la ricordate quella della riunione di Renzi da Giorgio Napolitano? tre ore di camera di consiglio prima di entrare il ministro della giustizia doveva chiamarsi Gatteri magistrato antimafia uno dei massimi esperti e lottatori contro l'andrangheta un guerriero e un luminare per la marea di proposte che sviscera e ha sviscerato in tutti questi anni entra Renzi da Napolitano si fanno le loro tre ore esce esce Renzi chi è il ministro della giustizia? Andrea Orlando però è possibile cosa è successo in quelle tre ore? è successo che come al solito come al solito in tutti questi anni si è visto ma in quest'ultimo anno e mezzo noi lo stiamo vedendo ancora di più su ogni decisione grossa e importante che viene presa in questo paese c'è la bocca e c'è lo scettro come l'abbiamo chiamato del Presidente della Repubblica in questo paese non c'è nessuno nessuno a parte noi che gli abbiamo presentato la messa in stato d'accusa in grado di mettere e di riportare il Presidente della Repubblica alle sue responsabilità e soprattutto ai suoi compiti se voi vi leggete la Costituzione non c'è scritto da nessuna parte che il Presidente del Consiglio deve andare a scriversi la rosa dei ministri insieme al Presidente della Repubblica non c'è scritto non è il Presidente della Repubblica che deve decidere i ministri non è questo il suo compito eppure eppure Napolitano non ha voluto Nicola Gratteri e ci siamo ritrovati Andrea Orlando perché Andrea Orlando è più garantista eh capito essere più garantista significa in questo paese ormai una semplice cosa perché te le mascherano un po' le parole il garantismo in realtà dovrebbe essere qualcosa di pulito sono due visioni nel nostro sistema penale ma essere garantista in questo paese significa non non eh non fare la vera guerra a chi se lo merita non fare la vera guerra alle mafie innanzitutto ai colletti bianchi ancora di più non fare delle leggi che servano a questo paese per liberarsi da uno dei cancri peggiori che abbiamo che è la corruzione dilagante che è arrivata ed è palese da nord a sud ma non c'è veramente nessuno che abbia voglia di mettere le mani a questo sistema così marcio che ci ritroviamo noi ogni giorno nella grande spending review di Cottarelli sulla corruzione e su un altro istituto molto importante che si chiama prescrizione non c'è nulla noi abbiamo avuto il governo Monti che ha tentato di mettere le mani alla corruzione con una legge diciamo una goccia nell'oceano una legge severino che si chiama la legge 190 del 2012 che ha tentato di intraprendere una strada per colpire di più i colletti bianchi poi nell'intero anno di governo Letta noi siamo stati tutto il tempo in commissione giustizia a parlare di carceri tutte le volte che noi chiedevamo con il movimento 5 stenne calendarizziamo la legge sull'anticorruzione ci calendarizzate queste proposte per i cumuli di cariche ci calendarizzate questa proposta per mettere in mano l'istituto della prescrizione dei reati la risposta era no perché questo non è un tema condiviso la commissione tra Renzi Alfano e prima ancora tra Letta e Berlusconi porta a questo non vi dovete far fregare e mi verrebbero parole ancora peggiori dai bei proclami e dalle persone che vi danno con degli slogan credibilità e affidabilità andate a vedere cosa c'è dietro rendetevi conto che finché ci saranno queste tipologie di alleanze tra centro finto centrodestra e finto centrosinistra le cose non potranno mai cambiare come fa Renzi come fa Renzi a punire a mettere mano a lotte vere contro i colletti bianchi contro la corruzione contro le mafie contro le commisterie tra mafie politica se di fianco al ministro Alfano all'interno come Dio lo fa che fino al giorno prima era insieme a Silvio Berlusconi queste sono cose molto semplici eppure le persone sembrano così un po' quasi scettiche nel credere ma no intanto alla fine ce la farà Renzi è lui quello potente lui può farcela non è così non è così vi faccio un esempio sul ministero dell'interno una delle ultime denunce una delle ultime cose che abbiamo scoperto a fine gennaio c'è stato un blitz della della polizia delle forze dell'ordine a Roma che ha portato l'arresto di 90 persone tutte collegate a un clan di Camorra un clan di Emanuele Contini hanno arrestato queste 90 persone e tra questi c'erano tre fratelli fratelli Righi questi tre fratelli Righi avevano e hanno una marea di esercizi commerciali sparsi un po' in tutta Roma che gli servivano per fare il riciclaggio di denaro sporco quindi per ripulire i soldi sporchi della criminalità organizzata e della Camorra sono stati beccati questi fratelli Righi mentre parlavano al telefono con un funzionario un certo Francesco Sperti questo Francesco Sperti si lamentava con i fratelli Righi e gli diceva cari fratelli voi mi date troppo poco per i servizi che io vi faccio mi dovreste pagare di più mi dovreste pagare di più perché io con tutto quello che vi sto facendo da anni il compenso che mi date è davvero troppo poco che cosa faceva di servizio questo Francesco Sperti per i fratelli Righi e quindi per la Camorra? lavora al Ministero dell'Interno è un funzionario attualmente funzionario del Ministero dell'Interno a libro paga della Camorra da più di dieci anni che era capo staffe capo ufficio delle barche dati per i rapporti con le pubbliche amministrazioni quindi questo soggetto da dieci anni ha in mano tutte le barche dati e le informazioni del Ministero dell'Interno che può tranquillamente girare alla Camorra quando al Ministro Alfano gli è stata fatta la domanda Ministro ma lei si rende conto della carità di questi fatti qui? voi avete un mento camorrista uno che appunto servito dai fratelli Righi passa le informazioni alla Camorra da più di dieci anni magari su tutte le operazioni che state facendo voi come Ministero o magari su tutti i dati sensibili sugli agenti di copertura del Ministero immaginatevi che cosa può esserci nella banca dati del Ministero dell'Interno servizi segreti e quant'altro questo gli passa le informazioni da dieci anni e il Ministro Alfano minimizza dice ma no guarda io non lo so quando è stato assunto questo qui io ero all'elementari anzi io ero all'università lei signorina era all'elementari adesso controlleremo vedremo ci faremo dare le informazioni qualcosa faremo se lei mi lo chiede in Parlamento le risponderò erano in commissione antimafia ma rispondemi adesso no se lei me lo chiede in Parlamento mi faccia un'interrogazione e le rispondo questo è il nostro Ministro all'interno per non parlare poi di tutto quello che ho fatto in passato ma questo è un episodio di un mese e mezzo fa un mese e mezzo fa allora davanti a queste schifette lo vogliamo capire che il fatto di avere dei ragazzi delle persone liberi da lobby liberi da qualsiasi tipo di interesse onesti senza precedenti penali che stanno qui davanti a voi e vi dicono noi non facciamo noi non facciamo della politica un mestiere per tutta la vita noi stiamo qui due mandati e poi saranno altri a prendere il nostro posto ma siamo due mandati perché? perché non ci vogliamo sporcare non ci vogliamo sporcare perché la politica è un servizio io passerei guardate poi la parola ai nostri due consiglieri regionali che magari ci parleranno un po' di Expo e di tutte le attività che ci sono qui in regione e poi magari ci fate voi qualche domanda così vi raccontiamo vi risponderemo insomma tutte le vostre critiche tutti i vostri consigli e le vostre domande grazie sulle caserme volevo dire un altro adesso scopro anch'io che Cusama aveva la caserma sul terreno di un privato no il terreno è comunale proprietà è del privato il terreno è comunale ok in ballo abbiamo parlato ultimamente anche delle altre caserme quelle anche dell'esercito di smesse che ci sono abbiamo in centro a Milano sono tutte di proprietà dello Stato quindi queste caserme cosa hanno pensato di fare? di svenderle naturalmente perché devono fare cassa e con queste caserme saranno svendute con la possibilità di fare degli abusi di inizio all'interno questo mentre stiamo approvando una legge sul consumo di suolo e sulla tutela del territorio quindi uno potrà ma neanche un abuso classico diciamo prendo il terreno, lo acquisto, so che ci hanno già fatto un abuso lo posso sanare perché non è colpa mia no no, ho un anno di tempo da quando l'ho acquistato per fare l'abuso e poi sanarlo cioè queste sono cose che non ci spiegano, non ce le dicono e questo me lo devo sentire dire e vedere votare dal presidente della commissione ambiente alla camera realacci lega ambiente e poi vedere il giorno dopo che vengono al convegno sul consumo di suolo a dire dobbiamo tutelare il nostro territorio, dobbiamo tutelare il paesaggio e tutto questo prendendoci in giro un aneddoto che è successo l'altro giorno sono lì al convegno sul consumo di suolo cioè ISPRA che sta facendo praticamente un po' il riassunto di qual è la situazione italiana qual è il consumo, come siamo messi rispetto all'Europa e tutto il resto bene, arriva a un certo punto come relatore Formigoni Formigoni, che dovrà mai dire? si siede lì e dice sì, dobbiamo tutelare il suolo, dobbiamo difendere io non ci ho visto più, quando sono intervenuto ho detto mi dispiace che Formigoni se ne è andato perché arrivano, fanno la loro presentazione e se ne vanno naturalmente non stanno lì a ascoltare però, o siamo credibili quando veniamo a fare certi discorsi oppure possiamo anche andare da un'altra parte Formigoni, il boschetto di gioia che era vincolato ed era bloccato ci hanno costruito sopra dei palazzi Formigoni, un milione di metri quadri di terreni fertili occupati per Expo e viene a parlare di consumo di suolo ma allora basta, cioè veramente, se non ci fossimo noi lì dentro probabilmente passava come una cosa normale perché lui adesso si è inserito nella Commissione Agricoltura al Senato, perché devono arrivare i fondi 2014-2020 dall'Europa e lui deve essere lì bene a controllare tutto dove vanno diretti i fondi a che amici li deve smistare, come li deve controllare quindi sostanzialmente queste persone cercano di tenersi il potere in mano e quindi vabbè, ho parlato, mi sono collegato alle caserme ma ho parlato anche di altro sulla parte terra dei fuochi è più una questione di competenza della Commissione Agricoltura che si occupa anche della tracciabilità appunto degli alimenti c'è una cosa in Italia, ma questo l'ho vista proprio dal mio lavoro di prima noi, che ne so, facciamo una produzione di cento quintali di pacchino pomodoro di pacchino, però poi lo trovi in tutto il mondo e tu dici, come è possibile che ce la facciamo a farlo andare in tutto il mondo sono aberrazioni, nel senso il produttore ha mille problemi perché deve fare mille certificazioni, mille permessi però poi manca il controllo, non c'è mai il controllo su terra dei fuochi ci hanno preso in giro perché, allora, o sono completamente deficienti io posso dirlo sull'immunità o sono completamente deficienti perché negli anni scorsi ci ha messo 10 anni a far morire la gente per scoprire dove erano le zone contaminate e adesso in 60 giorni lo fanno, per decreto ma stiamo scherzando? ma chi ha fatto questo ragionamento? come possiamo accettarlo anche solo come ragionamento di buonsenso? hanno fatto un lavoro alla buona hanno messo insieme quattro dati li hanno buttati lì persone anche incompetenti perché ho sentito chi ha lavorato ai tavoli dei vari ministeri incompetenti non sapevano neanche leggere le cartografie hanno tirato fuori questo 2% e poi hanno detto, il resto si vedrà allora questo 2% è un inizio questo 2% è un inizio diciamo quelli proprio palesi dove trovi il cumulo di rifiuti dove hai visto lo spostamento della terra dove hanno rivelato qualcosa ma in 60 giorni se non li hanno fatti in anni i carotaggi e i controlli ma pensate che in 60 giorni hanno fatto qualcosa in più i fondi arriveranno dopo quindi è tutto un lavoro da fare adesso hanno messo la pezza come al solito la pezza si lancia la grande proposta come il job act però poi non si fa perché nero su bianco non c'è niente di quello che ha fatto rientro in silenzio ci ha fatto vedere delle diapositive per bambini con i pesciolini con le cose ci ha fatto vedere ma va bravi i deficienti e vedete c'è questa cosa dopo di che non ha ancora messo niente nero su bianco non abbiamo discusso niente ma d'altro lui sta perdendo tempo lui sta perdendo tempo sta tirando in là deve sistemare varie cose sue e dà la priorità alle cose che ritiene ma ci distrae per terra dei fuochi non hanno risolto ancora nulla il dato di fatto che abbiamo su terra dei fuochi è che non sappiamo la tracciabilità dei prodotti dove sono andati a finire che sicuramente non sono tutti i prodotti della campagna quindi dobbiamo tutelare gli imprenditori che là si sono impegnati e hanno fatto dei prodotti di eccellenza però non abbiamo nessuna certezza di quando verranno bonificati i terreni e soprattutto dei soldi che abbiamo già stanziato negli anni per la bonifica ci sono società pubbliche che sono naturalmente delle SPA pubbliche partecipate dal pubblico anche al 100% ma essendo SPA non le controlli che si sono mangiate miliardi ma se li sono già mangiati sono già spariti in consulenze in mappature in alto che non sono servite niente perché ci siamo arrivati adesso a fare un minimo di mappatura e che sono spariti nel nulla di questo non se ne parla si mettono lì altri soldi per rifare mappature ma non si mettono lì altri soldi per fare le bonifiche di bonifiche in Italia non ne abbiamo ancora fatte la dimostrazione una società come la Sogesi che è partecipata al Ministero dell'Ambiente dovrebbe fare le bonifiche e gestire queste cose a più personale del Ministero perché il Ministero ha avuto i tagli sono tutte consulenze esterne e un poltronificio vengono dati i posti semplicemente a quelli i trombati o gli amici degli amici che devono ricevere dei soldi per fare nulla nulla perché anche i vecchi governi alcuni hanno proposto di chiuderla poi naturalmente si arriva a fine legislatura e nessuno se ne occupa più perché cosa vai a toccare dei posti che comunque ti danno dei voti no? non li tocchi mai quindi sono quelle società che non vengono mai toccate su terra dei fuochi la questione è ancora completamente aperta ma terra dei fuochi la Lombardia la Lombardia è forse la regione più inquinata d'Italia ma proprio anche come prodotti che troviamo sotto le strade che hanno messo all'interno dei materiali per le autostrade che hanno sotterrato a destra e a manche in più abbiamo ne discutevamo l'altro giorno dobbiamo far finta fino agli anni 70 80 comunque non c'era legislazione sull'ambiente che tenesse si sversava tutto quindi abbiamo anche un pregresso che è andato dappertutto su tutto il nostro territorio e che non possiamo non possiamo neanche quantificare che dovremmo sopportare per anni dobbiamo cercare di tamponare le situazioni peggiori adesso abbiamo fatto la proposta di legge sui reati ambientali è passata la Camera dopo un grande lavoro all'unanimità si è fatta passare al Senato adesso non so se si è allenata stiamo vedendo che cosa succede una volta che uscirà questa legge praticamente avremo con il ritardo di 18-20 anni finalmente la punizione per chi inquina deve pagare perché prima dovevi girare trovare un reato che fosse minimamente contestabile per andare a contestarlo all'azienda che stava inquinando perché il reato di inquinamento non c'era effettivamente dovevi andare proprio a trovare un cavillo per riuscire a agire non può essere le leggi non possono essere retroattive è un po' come quando parliamo anche dei riva io parlo della famiglia riva non può essere retroattiva è un principio questo non si può toccare effettivamente anche giusto perché tu dici io quando lo ho fatto mettiamo in buona fede quando l'ho fatto non era reato come fai dopo a dirlo se mi metti in galera anche per un motivo insensato certo ci sono anche altre cose invece che non toccano vedi le pensioni d'oro a noi le pensioni ci hanno tagliate ci hanno spostato le età e tutto il resto e io avevo un diritto acquisito a questo punto perché avevo iniziato a lavorare con una certa data di età pensionabile un certo tipo di pensione e me l'hanno modificata quando parli di pensioni d'oro in quel caso sono un diritto acquisito e quindi non le puoi toccare come fai a toccagliere questi ormai poverini sono abituati a vivere con 20.000 euro al mese cosa vuoi fare? poi magari lavorano ancora e riescono a accumularle e non puoi andargli a toccare mentre al povero pensionato che da 700 gliela portano a 500 gli si deve arrangiare ma ce la fai cosa devi fare? devi rifare solo la passeggiata nella notte rossi allora finisco con il resto delle domande in velocità su legalizzazione droghe e prostituzione sono due temi che davvero prenderebbero certo ovvio legalizziamo cocaina e non siamo a fine ma scusa però adesso ultimamente è uscito il Fabio diceva no ma è uscito il libro di sabiante un po' questa corrente che è venuta fuori di legalizzare tutte le droghe so che può spaventare però secondo me non è una riflessione che si potrebbe fare perché comunque si va a pagliare tanti soldi alla criminalità organizzata poi io francamente non mi so però ce lo riflesso di qua il problema è che siamo in Italia allora se noi fossimo in uno stato normale dove il pubblico e cioè chi ti rappresenta è in grado davvero di garantirti come pubblico una migliore gestione dei servizi e anche appunto della dello smercio delle droghe in questo caso è una è una riflessione fortissima non è il momento di farla stasera la risposta che ti posso dare io personalmente è come Giulia e che io non vedo nello stato italiano in questo momento è l'organo che può garantirti la gestione di questo servizio ok perché guarda che cosa succede con la scuola pubblica guarda che cosa succede con le ferrovie dello stato guarda che cosa succede con tutti i servizi quelli anche più semplici che vengono gestiti in questo momento allora noi prima se crediamo nello stato dobbiamo impegnarci per pensare a questi servizi che sono quelli più importanti per la nostra cittadinanza quando saremo un paese normale e corretto allora forse potremo anche tentare altre strade però prima dobbiamo ridiventare credibili come stato come servizio pubblico quando lo avremo rimesso a posto ci saremo tolti tutte quelle partecipate inquinate dove si infila la criminalità organizzata quando saremo diventati di nuovo credibili allora affrontiamo anche questo discorso altrimenti significa che se tu legalizzi tutte le droghe adesso basta la società come al solito tante itali che si infila della criminalità organizzata e ti diventa pulita e lo stato che cosa fa abdica di nuovo abdica di nuovo alla criminalità organizzata molto più intelligente di noi in questo momento che è già avanti che ti ha già dimostrato come riesce a infilarsi in qualsiasi subappalto o piccola fornitura o consulenza esterna del comune come riesce ad infilarsi in ogni consiglio comunale tant'è che anche qui in Lombardia chissà quanti ne sono stati sciolti per infiltrazioni di mafia e quindi non è quello il segreto secondo me per andare a parlare di droghe è una riflessione molto importante non è questo il momento come vi ho detto per farla noi questa discussione al nostro aiutare al Movimento 5 Stelle l'abbiamo avviata per le droghe leggere abbiamo già scritto una proposta di legge noi abbiamo e anche sulla prostituzione abbiamo avviato un ragionamento quello che vi volevo lasciare come messaggio che noi abbiamo non ne abbiamo parlato fino ad ora ma è importante ricordarlo un sistema che si chiama LEX cioè se voi vi iscrivete al Movimento 5 Stelle e andate su movimentocinquestelle.it voi potete iscrivervi e potete attraverso questo sistema operativo guardare tutte le proposte di legge del Movimento 5 Stelle ve le leggete e le potete andare a discutere sulla rete potete andare a fare delle modifiche a lasciare il vostro commento a dire no ma io in questo articolo lo scriverei in un altro modo no ma questa legge così come l'avete scritta a me non piace noi chiediamo a tutte le persone che hanno delle competenze anche i semplici curiosi di andare sul nostro sito movimentocinquestelle.it guardare le nostre proposte di legge tra cui quella delle droghe leggere quella sulla prostituzione e scrivere scrivere i vostri commenti per discuterle noi abbiamo creato questa rete che ci permette di portare direttamente poi in Parlamento perché poi noi le depositiamo le proposte con il vaglio dei cittadini perché non vogliamo appunto che sia una discussione che parte solo da un gruppo parlamentare formato da 150 deputati senatori questi sono temi che riguardano tutti allora come si chiede il referendum che quella sarebbe la migliore strada visto che ancora non si può fare noi intanto vi mettiamo a disposizione il nostro sito internet con le nostre proposte che voi potete tranquillamente discutere sulla rete qualcosa che nessun partito aveva mai fatto l'ultima questione veloce su carceri collaboratori di giustizia così poi chiudiamo e c'è un bel rinfresco e potete potete parlare con i ragazzi del comune e occuparvi di queste cose sarò breve sulle carceri noi ci siamo ritrovati negli ultimi anni con quattro decreti legge due del governo Monti due del governo Letta e il messaggio di Giorgio Napolitano che diceva cercare di fare un indulto un'amnistia per liberare i carceri indulto e amnistia non funzionano in questo paese nel 2006 l'ultimo indulto l'ha fatto il governo Prodi con Mastella ministro della giustizia dopo otto mesi le carceri erano di nuovo piene come prima dell'indulto quindi indulti e amnistia in questo paese non hanno futuro non funzionano noi siamo stati sanzionati dall'Europa a gennaio dell'anno scorso c'è stata una sentenza che ha detto cara Italia o risolvi il tuo problema di sovraffollamento carcerario perché hai 45.000 posti detenuti e però hai 66.000 detenuti quindi hai un surplus di 22.000 persone o risolvi questo problema o se no tutti i ricorsi dei detenuti che arriveranno alla Corte Europea dei diritti dell'uomo noi li accogliamo e li sanzioniamo e li facciamo un mazzo così cara Italia perché vi arriveranno sanzioni e lo Stato dovrà risarcire tutti i detenuti che faranno ricorso un casino un casino quindi il governo Letta diciamo bene farà qualcosa di serio in questo anno e invece no ha fatto due decreti che non sono serviti a nulla sono stati semplicemente una marchetta a volte per le società che avevano i braccialetti elettronici un'altra volta con uno sconto di pena applicabile mafiosi stupratori assassini tutti tutte le cose che abbiamo denunciato in questo anno noi Movimento 5 Stelle cosa abbiamo fatto? in piena estate mentre c'era l'ex ministro Cancellieri che faceva il call center dei Ligresti e cercava di far liberare la figlia dei Ligresti noi Movimento 5 Stelle siamo andati da Giorgio Napolitano e anche dal ministro Cancellieri con il nostro piano carceri ci siamo messi a studiare abbiamo visto che il vecchio l'ultimo piano carceri fatto nel 2010 da Angelino Alfano che era ministro della giustizia e dalla Cancellieri che era il ministro dell'interno questo piano carceri costato allo Stato 675 milioni di euro non ha risolto il problema del sovrappolamento carceri non ha creato nuovi posti in più zero quindi noi siamo messi lì grazie al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il DAP che si occupa appunto di carceri abbiamo preso un piano che era stato portato avanti anche dai loro funzionari lo abbiamo studiato lo abbiamo messo a posto e lo abbiamo portato direttamente nelle mani del ministro e del presidente della Repubblica è un piano molto semplice si tratta di riqualificare e mettere a posto ciò che già c'è noi le strutture le abbiamo già il problema è che in questo paese non siamo riusciti come stato ad utilizzarle bene ovvio che non basta solo questo quindi noi diciamo da una parte rimettiamo a posto le carceri che ci sono già e non c'è bisogno di costruirne di nuove è una cavolata questa basta avere i dati alla mano e poi facciamo delle leggi che servono mettiamo mano alla legge sulle droghe mettiamo mano alla legge sull'immigrazione mettiamo mano alla custodia cautelare cioè a quei detenuti che non sono stati condannati ma che aspettano ancora di fare il processo e che sono già in carcere cerchiamo di depenalizzare il più possibile di sanzionare con delle pene pecuniarie invece di mandare in carcere magari appunto il tossico dipendente di turno che è stato beccato con una dose irrisoria di Ascis magari e queste semplici riforme che abbiamo detto le abbiamo portate ma non se ne è fatto nulla la risposta è stata che non sono state prese in considerazione quindi noi siamo ancora lì a insistere sul problema delle carceri perché abbiamo già tutto pronto e aspettiamo soltanto che il ministro attuale che è appena arrivato ci dia delle risposte concrete lo incontreremo presto già avevamo chiesto un incontro nelle scorse settimane perché come abbiamo fatto con Napolitano come abbiamo fatto con la caccia ieri faremo anche con lui andremo da un anno e gli diremo Orlando noi da un anno che abbiamo già pronto tutto ascolti il Movimento 5 Stelle non perché devi ascoltare noi perché siamo i migliori però noi ti portiamo questa soluzione con le vostre idee con le nostre riusciamo a cambiarla la situazione e a toglierci di mezzo il problema carcere così magari ci occupiamo di anticorruzione di prescrizione dei reati di autoriciclaggio di riciclaggio di denaro di tutte quelle cose che servono per favore per favore per favore la lavorazione di giustizia è un argomento vastissimo che interessa in realtà poche persone infatti sono molto sorpresi dalla tua domanda i collaboratori di giustizia e i testimoni sono due cose diverse i testimoni di giustizia sono i cittadini comuni molto spesso o imprenditori o persone della società civile spesso e volentieri imprenditori che magari assistono ad un reato spesso sono imprenditori che denunciano il pizzo che richiede la criminalità organizzata e quindi non sono mafiosi sono persone che si mettono nelle mani dello Stato che fanno una scelta coraggiosissima di andare a denunciare quello che sanno spesso dal loro denunce dal loro gesto partono dei processi e loro appunto testimoniano durante il processo i collaboratori di giustizia invece sono quei soggetti mafiosi che per sono stati condannati e per riuscire ad ottenere dei benefici penitenziari decidono di collaborare con la giustizia queste due categorie di persone così diverse tra loro sono state ovviamente messe insieme nel 2001 nel decreto legislativo si chiama 45 del 2001 che regola sia i testimoni sia i collaboratori di giustizia facendo tutto un unico calderone si dice si estende anche ai testimoni la possibilità di accedere al programma speciale di protezione se tu dai delle informazioni che allo Stato servono io Stato devo cercare di proteggerti che tu sia un mafioso che tu sia un cittadino comune perché altrimenti la criminalità organizzata potrebbe arrivare e ammazzare te la tua famiglia o chi per loro e quindi lo Stato cerca di tutelarti il problema qual è? è che per quanto riguarda i testimoni di giustizia soprattutto io parlo di loro perché sono i casi che stanno più a cuore lo Stato in questi anni non è stato in grado di garantire a queste persone la dovuta protezione non perché non funziona bene lo speciale programma di protezione ma perché quando escono queste persone dal programma o magari anche prima di entrarci soprattutto quando escono sono delle persone usciate sole sole e anche quando sono all'interno del programma gli viene tolti tutto non hanno più la loro identità magari vengono tolti dal loro paese di origine ovviamente i problemi dei testimoni sono guardate una miriade in questo anno noi ne abbiamo incontrati moltissimi la situazione peggiore per me è quella di vedere persone che mi continuano a dire se tornassi indietro non farei la scelta che ho fatto se tornassi indietro io non denuncerei la mafia la grande con la camorra se tornassi indietro io farei una scelta diversa e questo è preoccupante questo è preoccupante abbiamo soltanto un'ottantina di testimoni di giustizia attualmente in Italia 80 persone sono pochissime abbiamo un paese dove regna l'onertà anche qui in Lombardia anche qui in Lombardia non credi che ci sia una volontà penso che dietro a questa situazione ci sia stato fino ad ora una non una volontà però un lasciamo le cose così come stanno non andiamo a toccare certe leggi non andiamo a toccare certe questioni lasciamo correre perché conviene perché va bene così a tutti va bene così alla politica che si può ritrovare i consiglieri comunali o regionali o parlamentari collusi spesso con la credibilità organizzata va bene alle lobby va bene alle banche va bene ai cittadini intorno va bene un po' a tutti ecco noi come movimento vogliamo cercare anche qui di cambiarla questa situazione quindi stiamo studiando il decreto legislativo da un po' e stiamo cercando di proporre insieme ai ministri sottosegretari competenti delle misure per cercare di far aumentare far aumentare questi cittadini che denunciano e tutelare anche in qualche modo i collaboratori di giustizia perché non è possibile non è possibile che grazie a questa legge del 2001 tu hai il mafioso che ha sei mesi di tempo per denunciare quello che ha visto in tutta la sua attività il mafioso ha sei mesi di tempo per parlare e dire tutto quello che sa dopo i sei mesi quello che lui dice non può più essere utilizzato nel processo perché non ha più valore probatorio in dibattimento è una cosa gravissima voi vi rendetevi conto questa è una denuncia che fanno tutti i magistrati il mafioso di turno che magari è da vent'anni che ha commesso dei reatti anche gravi e che ha avuto una serie di rapporti con politici, imprenditori banchieri e quant'altro avvocati commercialisti eccetera come fa in sei mesi a raccontare tutto quando magari gli interrogatori non è che il magistrato può interrogare tutti i giorni e magari poi scappano fuori delle cose con il tempo se vengono fuori delle cose dopo non si può più dire nulla non possono più essere utilizzate e guardate che gli avvocati di Dell'Utri nel processo che c'è attualmente sulla trattativa stato-mafia l'ho sentito la scorsa settimana a Revibbia al carcere di Revibbia nell'aula bunker dove si è fatto il processo sulla trattativa l'avvocato di Dell'Utri facevaneva proprio su questa cosa qui diceva ah ma le dichiarazioni di Spatuzza collaboratori di giustizia sul coinvolgimento di Berlusconi e di Dell'Utri nella trattativa stato-mafia che ha portato alle stragi sono state fatte dopo i sei mesi quindi tu giudice non puoi prenderle in considerazione per fortuna per fortuna che abbiamo dei magistrati in questo paese sono rimasti in pochi ma ci sono che riescono attraverso l'interpretazione delle norme a superare questo problema dei sei mesi ma il punto è che finché abbiamo queste leggi mettiamo in difficoltà anche la magistratura che si ritrova appunto davanti a queste situazioni inerne spesso e volentieri allora noi vogliamo andare a decidere su quel decreto legislativo e cercare di migliorare la situazione ovviamente che qui è un argomento di cui si potrebbe parlare per ore poi hai toccato proprio le cose che mi riguardano personalmente quindi a cui sono particolarmente sensibile però queste sono cose che dovrebbero interessare di più la politica e anche noi cittadini sarebbe bello che il cittadino di turno che in qualche modo viene a contatto con l'andranghettista o l'imprenditore o il colluso con la criminalità organizzata sarebbe bello che potesse andare nelle mani della questura dei carabinieri nelle mani dello Stato ed essere tranquillo ed essere sicuro perché sta facendo un servizio al proprio paese cerchiamo di arrivare a questo applausi